Buongiorno a tutti, ho l'immeritato compito di introdurre la giornata di oggi, il seminario di oggi sulla tematica di geopolitica. Prima di farlo volevo ringraziare innanzitutto Stefano Rivas e Francesco Lozucotelli per il contributo scientifico e organizzativo che hanno dato all'organizzazione questo fine settimana. C'è un attimo di riallacciarmi a quello che ci siamo detti ieri sera, per chi c'era, per chi non c'era, come sapete, verrà messo online l'intervento. Per Luigi Fagan ieri ci ha fatto un quadro generale su quello che è una visione abbastanza originale sulla geopolitica e su quello che lui chiama appunto la situazione di complessità al suo interno e sul mondo multipolare. In particolare ci sono molte cose su cui sarebbe stato interessante vedere di battere Dario Fabri e Fagan insieme, però ci sono due cose su cui, una su cui penso siano molto d'accordo, cioè innanzitutto il fatto che l'idea che lo Stato in quanto tale sia un soggetto completamente in dissolvenza e non più importante sia assolutamente una fantasia intellettuale che poi non ha molti riscontri nella storia contemporanea dell'oggi. L'altro fattore è quello dell'importanza, più diante come fattore di sviluppo storico, della demografia. Come buono centrale. Uno dei dati che ci dava ieri è come il cosiddetto uomo occidentale sia passato da essere più o meno il 30% della popolazione mondiale e a essere in prospettiva nei prossimi decenni e rappresentare poco più del 10%. E questo chiaramente ha delle implicazioni molto forti in prospettiva sul piano economico, sul piano anche di potenza. E quindi si sta andando verso un mondo multipolare. Almeno questa è la teoria sua ed è comunque una teoria su cui è interessante dibattere. Per farlo, a giornata di oggi, ne ho scelto due grosse aree geografiche per ragionare su questo. Una è quella medio orientale, di cui parleremo oggi pomeriggio, come sapete. Per fare un esempio tra tutti, in Siria vediamo che effettivamente... Vediamo per esempio in Siria dove c'è una guerra che ormai va avanti da diversi anni, dove effettivamente c'è una presenza anche in maniera molto sclerotica, cioè con alleanze molto flessibili tra quasi tutte le potenze mondiali. Il Papa l'ha chiamata terza guerra mondiale, in prospettiva. Dove paradossalmente l'attore che più è assente è proprio in Europa, se non probabilmente per il commercio di armi o una presenza molto secondaria rispetto ad altre realtà. L'altro grande tema è quello dell'Oceano Pacifico, dove possiamo notare che in tempi si sta diventando il nuovo centro effettivamente della politica internazionale, dove l'oceano su cui si affacciano le prime tre potenze economiche mondiali, dove si affaccia in prospettiva quasi metà della popolazione. Per fare questo mi hanno pensato di affrontare il tema parlando degli Stati Uniti in quell'area geografica. Se la geopolitica può essere configurata come lo studio del tipanarsi del potere, della potenza nello spazio, allora diventa interessante capire come l'impero americano, che fino agli anni Ottanta era visto in contraposizione con l'Unione Sovietica, e poi negli anni Novanti in poi si è quotizzato come l'unica grande potenza, adesso sia in qualche modo, proprio nella situazione dell'Oceano Pacifico, in qualche forma debba confrontarsi con le merce di nuove potenze in prospettiva. Soprattutto in quanto è un impero fondato sul controllo degli oceani e dei mari, su delle rotte commerciali, eccetera. Quindi le domande su cui vorremmo ragionare stamattina sono innanzitutto se il modello americano, cioè il modello di impero americano, sia potenzialmente in crisi o possa diventarlo in tempi, diciamo, nei prossimi 10-20 anni. Seconda cosa, se effettivamente gli Stati Uniti hanno la possibilità di smettere di essere l'impero, per cui ad esempio quando Trump fa alcuni ragionamenti in campagna elettorale, se poi questa cosa possa diventare effettivamente una prospettiva sulla quale gli Stati Uniti si riorganizzano. L'altra domanda è se l'economia è considerata lo strumento principale per comprendere il mondo, o almeno molti, soprattutto nei mass media, nel mainstream, viene considerato questo negli ultimi 20 anni. allora se la maggior ragione del Pacifico, dove c'è un punto dove si affaccia la Cina, che è effettivamente la potenza, diciamo, la fabbrica del mondo, il dominio americano non venga messo in crisi proprio per questi motivi economici. E l'altra cosa è se negli ultimi 15 mesi, non 18, di Trump, se la strategia e tattica, che sono appunto termini in realtà che si confondono, ma non sono poi, cioè non sono, ce lo vengono usati distintamente, però non lo sono, se la strategia e o la tattica degli Stati Uniti si sia modificata negli ultimi 15 mesi. Di tutto questo avremo la fortuna di parlare con Dario Fabri, che è responsabile, come tutti sapete, dell'America di Limes, di cui fa parte da diversi anni di un consiglio scientifico, è collaboratore di numerose testate internazionali, tra cui la rivista Geopolitica Conflì, una rivista francese, e anche, diciamo, lavora anche a Radio 3 Mondo. Quindi lascio quindi la parola a lui, che sicuramente spiegherà, spero anche meglio di quanto abbia fatto io, in maniera un po' confusionare, probabilmente, alcuni termini chiave che ho introdotto. Grazie, grazie per l'invito, grazie a voi per essere qui, grazie per la presentazione, un po' meno per le domande, perché ci vorrebbero un paio d'anni per rispondere a tutte le domande molto interessanti che mi hai posto. Quindi raccontare gli istituti del Pacifico diventa un modo che è assolutamente corretto per raccontare il mondo di oggi, visto che è in assoluto il quadrante Pacifico più rilevante per gli Stati Uniti, almeno in questa fase, diciamo, un discorso un po' complesso, forse probabilmente il quadrante più rilevante resta l'intera massa eurasiatica, ma comunque il Pacifico, quindi anche noi, volontariamente. Il Pacifico è oggi, in questo specifico momento, il teatro su cui gli Stati Uniti investono di più, sul quale si concentrano maggiormente, eccetera. Alcune cose le hai dette già duro, molto corrette, se il diranno hai specificato anche una loro definizione, proveremo a darla questa mattina, provando a capire che cosa sono gli Stati Uniti, che cosa fanno, che cosa vogliono, una sorta di trattato esistenziale degli americani, che può essere inutile da un punto di vista geopolitico. Dicevi giustamente che la geopolitica è lo sogno della potenza, inteso come potere, innanzitutto statuale o imperiale, nello spazio geografico, quindi tutto ciò che non avviene nello spazio geografico, tutto ciò che non è mappabile, non è geopolitico, diventa qualcos'altro, diventa filosofia della storia, piuttosto che economia, sociologia, quindi discipline che con la geopolitica c'entrano pochissimo, se non in funzione a cillare, cioè la geopolitica si pensi della superiore, queste discipline le utilizzano per questo servizio, non è un caso che la geopolitica in Italia non sia molto frequentata. In materia che va molto di moda, ma è una materia esoterica, nel senso che nessuno sa bene che cosa sia, noi compresi evidentemente, però abbiamo la fortuna, oppure hanno assoluta incoscienza di occuparci. Nel caso specifico americano, rispondiamo direttamente a delle domande che mi ponevi, anzi ad un'affermazione con la quale sono d'accordo, che quella era totalmente evidente, legata agli Stati, questa sciocchezza, questa ideologia, questo pregiudizio per cui gli Stati ci avrebbero abbandonato e ci saremmo forse occupati, non lo so, di città-stato, piuttosto che di tribù sparse sul territorio, o ancora meglio, ci saremmo sciolti in una politica armonia, una specie più facile dei sensi, nella quale saremmo tutti sopravvissuti a noi stessi, qualcosa che è invecchiato malissimo, nel senso, distillata negli Stati Uniti, e mai applicata dagli americani. Una delle cose divertenti di tutto questo tipo di teorie, che nascono fino agli anni Ottanta, soprattutto all'inizio degli anni Novanta, quando gli americani ovviamente si inventano la fine della storia, con alcuni celebri testi, eccetera, la cosa divertente è che sono tutte teorie inventate dagli americani, che gli americani non hanno mai applicato su se stessi, ma mai a nessuno in Occidente è venuto il dubbio di cogliere queste incongruenze. E' come se io raccontassi a te che è importante camminare sull'acqua, però mando avanti te e io rimango sulla riva, ma a te non viene il dubbio che io abbia perlomeno un po' di dolo in ciò che racconto. Gli americani hanno raccontato nel momento in cui diventano l'impero globale, a quelle che dovrebbero essere, se sono solo, se sono state le loro province, alleati, in termini edulcorati, che gli stati non esistono più. Ma è evidente, nel momento in cui io creo l'impero globale, è evidente che alle mie province chiedo di non essere più degli stati, chiedo di essere altri. E' più ironico che questo a livello intellettuale ascenda ad una sorta di stato definitivo dell'umanità. Cioè i posteri rideranno molto di noi per questo. Perché non solo la storia non è finita, la fine degli stati è collegata direttamente alla fine della storia, ma non solo la storia non è finita, anche se noi abbiamo, fate voi la fortuna oppure la disgrazia di vivere, noi sì, noi europei, in tempo post-storico, cioè nella convinzione che la grande storia sia finita, quindi il massimalismo non ci appartenga più, che dobbiamo occuparci soprattutto delle vicende economiche, individualistiche, eccetera, eccetera. Quando la grande storia tornerà perché non si è estinta, semplicemente qualcuno ce l'ha tolta, ci ha impedito di viverla perché è più capace di noi, perché ha imposto su di noi la sua volontà, quindi la sua Pax, nel senso romano del termine, ha eliminato la violenza attraverso la sua, creando la Pax americana, quando, come tutte le vicende umane, anche questa avrà fine, la storia tornerà, qualcuno riderà di noi per aver pensato che questa non sarebbe mai tornata, che la violenza è stata espunta dalle relazioni internazionali, che questi si basano soltanto sui contatti, piuttosto che sulla competizione economica, eccetera eccetera. Ecco, gli americani a questo non hanno ovviamente mai creduto, non solo gli americani, questo è discretamente scontato, ci sono molti paesi in giro per il mondo, quasi sempre antagonisti degli Stati Uniti e neanche questo è un caso, che un antagonista degli Stati Uniti abbia un'idea storica identica a quella americana, che abbia un'idea di potenza molto presente, molto attuale, non post-storica, come può essere la Cina, la Russia, la Turchia, l'Iran, potremmo citare molti dei paesi che si mantengono con i piedi nella storia, che vivono peggio di noi, attenzione, da noi si vive molto meglio, cioè vivere in condizioni post-storiche è un lusso, credere che la violenza sia stata espunta nelle nazioni internazionali è un grande lusso, si vive molto meglio, gli americani vivono peggio di noi, evidente, e anche per questo leggono Trump, proprio perché vivono una sofferenza, essere impero è una sofferenza, ma vivono nel presente, a differenza nostra, e quindi non si stupiranno quando la storia tornerà anche da noi. Nel caso specifico degli americani e il pacifico, il pacifico per gli americani è uno dei teatri sui quali e nel quale si sviluppano le loro potenze. Gli americani sono una talsocrazia, proviamo a mettere già questo come punto, cioè sono una potenza marittima, non esistono gli americani, cioè non esiste l'America come potenza senza il mare. Tutto ciò che li riguarda origina e finisce sul mare, cioè gli americani guardano al mare come al primo elemento di potenza ed è attraverso il mare che giudicano tutti gli altri. Questa è una caratteristica, una dimensione della potenza americana che specialmente dalle nostre parti è del tutto misconosciuta, cioè non se ne ha percezione, non solo perché è discretamente grave, non solo perché la dimensione marittima è la più importante delle dimensioni militari, è quella perlomeno attraverso cui si creano gli imperi globali, gli imperi globali della storia senza il dominio dei mari non ci sarebbero stati. Il primo impero globale, fra virgolette, perché all'epoca bastava controllare il Mediterraneo per renderlo tale, è stato ovviamente quello romano, i romani creano la loro PAX, nel momento in cui controllano tutto il mare, si fanno potenza marittima, si fanno talassocrazia, i romani erano una potenza continentale, la più straordinaria della storia, poi diventano una potenza marittima per sconfiggere Cartagine, che sapeva stare in mare. Gli americani hanno direttamente l'approccio al mare attraverso gli inglesi, gli inglesi di fatto lasciano tre grandi eredità agli americani, una è la lingua, anche se discretamente diversa, gli inglesi sono molto, come dire, sono bizzarre nel loro approccio alla lingua americana, perché gli americani mantengono la parte più autentica della lingua inglese, cioè quella del 600, prima che gli inglesi morissero di complesso di inferiorità nei confronti del francese, iniziassero a scrivere la loro lingua con la dizione francese, quindi il theater diventa scritto alla francese, eccetera, gli americani mantengono invece l'edizione di Shakespeare e paradossalmente gliel'hanno rovinata, questo è tipico degli inglesi. Quindi ne mantengono l'autenticità ma gliel'hanno rovinata. Nella lingua gli lasciano più seriamente il grande concetto di tradizione che è tipico di tutte le società anglosassone per cui il diritto si basa sul precedente e l'approccio al mare. L'approccio al mare che è alla base stessa della potenza americana. Nel Pacifico la potenza marittima statunitense ha semplicemente una delle sue declinazioni. stiamo spesso discutendo di globalizzazione c'è questa domanda da dove viene quando finirà a che punto siamo la globalizzazione nient'altro è da un punto di vista non economicistico che il controllo americano dei mari non è nient'altro non c'è nient'altro e finirà esattamente quando finirà il controllo americano dei mari cioè non bisogna inseguire chissà quali spiegazioni o quali divinazioni per comprendere a che punto siamo e quando finirà se c'è una cosa in un mondo che ci appare in transizione voi avete se ho capito bene intitolato questa serie di incontri verso il mondo multipolare o qualcosa del genere forse ho capito male io se c'è una cosa che resta fisso e non ha nulla di multipolare è il controllo americano dei mari cioè c'è solo una potenza in un mondo che li controlla tutti e una soltanto sono gli Stati Uniti per capire quanto è importante controllare i mari specialmente il Pacifico basti pensare che tutte le merci di cui noi disponiamo in Italia al 90% sono arrivate qui via mare Milano è una città che sta sul mare ovviamente ma tutto ciò che trova in tutti i suoi negozi in tutte le sue case è arrivato via mare per il 90% chi controlla il mare è evidente che ha un vantaggio discreto per usare un eufemismo nei confronti delle nostre vite quotidiane e chi controlla i mari sono soltanto gli americani proprio nessun altro cioè forse noi non ci rendiamo conto della grandezza di questa dimensione per questo io tendo a battere spesso su questo punto quando sentiamo dire gli americani sono in declino ci stanno a bambini vivono difficoltà poi ci abbandoneranno non resteranno per sempre non sono un diamante quindi almeno gli americani sono per sempre ma nel momento in cui controllano tutti i mari e tutti gli oceani è difficile immaginare che possano essere in difficoltà che cosa vuol dire controllare i mari non vuol dire controllare il chilometro per quadrato chilometro per quadrato questo è al di là di qualsiasi capacità umana vuol dire controllare gli stretti e gli istmi che conducono i mari di controllare il passaggio che porta da un bacino ad un altro dal canale di Suaz a quello di Panama stretto di Malacca eccetera eccetera soltanto gli americani hanno in potenza la capacità di occludere il passaggio a qualsiasi altra potenza gli americani hanno 12 portaerei visto che si discute spesso di Cina che è un paese che non è una potenza marittima di questo parleremo oggi discutendo di Asia Pacifico i cinesi hanno due portaerei di cui una ucraina refurbished come dicono gli americani cioè ristrutturata in tono ironico e l'altra indigena autottona che è stata varata negli ottimi mesi gli americani hanno 12 di primissima generazione per dire gli americani hanno portaerei a propulsione nucleare l'unico paese al mondo che ha una portaere a propulsione nucleare che non sia gli Stati Uniti e la Francia con la sua char de borde quindi questo ci dà le grandezze entriamo nell'argomento di cui parliamo quando i romani controllano tutto il Mediterraneo dopo aver sconfitto la terza guerra pubblica l'unica cartagine impongono non sono ancora un impero probabilmente non lo diventeranno mai probabilmente rimarranno una repubblica senatoriale fino alla fine di un principe ma comunque non lo sono lo diventano in quel momento l'impero impongono la Pax Romana lo fanno attraverso il mare esattamente in quel momento in cui si crea l'impero globale americano sebbene ripeto soltanto collegato al Mediterraneo in maniera di tutto identica il primo impero globale reale per estensione lo costituiranno gli inglesi nell'ottocento con gli stessi identici mezzi cioè controllando i mari 20-25 anni dopo successivamente alla guerra punica i romani vivono lo stesso malessere che vivono oggi gli americani ed è incredibile come questa corrispondenza anche in termini di anni sia impressionante cioè all'epoca dei fratelli Gracchi per intenderci c'è l'assoluta convinzione a Roma che della Pax Romana cioè che dell'impero romano siano gli altri a beneficiare non siano i cives romani ma siano i clientes cioè siano gli alleati si direbbe oggi le province i sottoposti gli assoggettati e addirittura i nemici coloro che sono stati introdotti nel sistema romano e tenuti a beneficiarli se scogliete qualcosa della campagna elettorale di Trump non si era lontani dalla realtà e Trump viene eletto esattamente per questo motivo Trump è un signore che a guardarlo è discretamente improbabile tanto fisicamente quanto dialetticamente di quello possiamo discutere è un dialettico peraltro estremamente efficace ma non fosse altro perché Trump è un oligarca new yorkese di una città che ha poco a che fare con l'America profonda che gli americani frequentano pochissimo e prendono pochissimo in considerazione che non puntualmente scambiamo per l'America ma soprattutto è un oligarca eppure Trump riesce ad incarnare la pancia dell'America profonda che si sente prostrata dal fardello imperiale che cos'è il fardello imperiale? essere impero non è il paradiso terrestre tra l'altro l'accezione di impero che negli anni 70 negli anni 80 veniva utilizzata non soltanto in Italia in giro per il mondo con una accezione per l'appunto negativa per cui l'impero e il male sono dei cattivoni eccetera noi che siamo invece dei grandi vigliacchi che non diamo accensioni positive e negative a questo tipo di termini non lo consideriamo in senso negativo cioè se l'impero è semplicemente una condizione per cui una nazione per capacità per paura per difendersi meglio eccetera riesce ad estendere la sua influenza oltre i confini geografici cioè riesce ad imporsi sugli altri semplicemente perché in una specifica fase storica è più capace l'impero americano non è il paradiso terrestre come nessun impero ma perché perché essere impero vuol dire non essere nazionalisti e quindi vado a toccare un altro punto che tu a quale tu faci riferimento c'è una grande differenza dall'essere imperiale una volta si sarebbe detto imperialisti dalle nostre parti ed essere nazionalisti in realtà imperiali e imperialisti sono concetti diversi velocissimamente un atteggiamento imperialistico è un atteggiamento diciamo così astrategico cioè i neoconservatori tendono ad un atteggiamento imperialistico io faccio quello che faccio perché posso cioè metto i piedi nel piatto perché posso farlo di spesso anche in senso antistrategico semplicemente per potenza l'atteggiamento imperiale è quell'atteggiamento per cui io faccio quello che faccio perché devo per conservare il mio impero ed è Obama Obama imperiale per eccellenza Bush fino imperialistico per eccellenza anche se Obama è stato raccontato come posto imperiale si sa bene perché l'impero americano come tutti gli imperi dicevo vive in maniera antinazionalistica anche questo a noi può sembrare molto strano cioè una nazione nazionalistica fa soltanto gli affari propri può essere ad esempio una nazione una pura potenza economica io vi guardo soltanto i cavoli miei perseguo i miei interessi e la notte dormo tranquillo un impero non può concedersi a questo lusso dal momento che è diventato impero senza volerlo anche su questo dobbiamo essere molto chiari chi diventa impero non è un cattivone gli americani non sono malvaggi sono esseri umani quindi sono buoni e cattivi allo stesso tempo come tutti gli esseri umani ma esattamente quando i romani erano quattro capanne sul tevere non è che pensavano come romanzo divinale andiamo a dominare il mondo pensavano a superare la notte pensavano a sopravvivere a sfamarsi a difendersi meglio esattamente come fanno gli americani all'inizio della loro epopea cioè alle fine del settecento pensano a dominare il bacino del Mississippi che è il più grande il bacino fluviale del mondo e con un colpo di genio comprano la Louisiana che non è la Louisiana attuale la Louisiana che occupava l'intera fascia del continente nordamericano che era un possedimento francese nel 1803 la comprano da Napoleone per quattro lire perché semplicemente i francesi non sapevano che cavolo farsene in quel momento dominano la prima parte e la più importante del continente nordamericano in quel momento diventano un impero cioè si pongono sul bacino del Mississippi che sarà fondamentale per la loro ascesa anche qui l'acqua l'elemento immancabile di tutte le costruzioni mageopolitiche anche e soprattutto di quella americana ma dicevo essere impero conduce le potenze ad avere condizioni anti-economiche uno dei mantra di Trump è il deficit commerciale dobbiamo ridurre il deficit commerciale è troppo gravoso ed è una delle ragioni se non addirittura la ragione principale per cui è stato eletto il punto è che tutti gli imperi hanno un enorme deficit commerciale lo perseguono scientificamente da un punto di vista economico un paese che ha un immenso deficit commerciale gli americani hanno 503-504 miliardi scusi servizi di deficit commerciale c'è quindi qualcosa di mostruoso che noi nemmeno riusciamo ad immaginare ma anche i romani avevano un deficit commerciale di questo tipo importavano quasi tutto ciò di cui disponevano anche gli inglesi è vero che gli inglesi non hanno nemmeno una cucina nazionale non solo perché sono incapaci a cucinare come sa chiunque abbia frequentato un po' l'Inghilterra ma non ce l'hanno perché sono stati invasi da prodotti delle province quindi il tè che non è esattamente inglese come origine è diventato l'emblema del passatempo più noioso peraltro che gli inglesi si concedono cioè la condizione di deficit commerciale è perseguita scientificamente scientificamente non impero perché per due grandi ragioni ovviamente per creare dipendenza fra sé e gli altri nel momento in cui acquisto le tue merci ti rendo dipendente per il tuo benessere da me dalla mia volontà di acquistare le tue merci nello stesso momento rendo globale la mia moneta ponendola materialmente nelle tue mani io compro le tue merci con la mia moneta te la metto fra le mani da un momento tu sei costretto a partecipare del mio di benessere perché sei costretto a far sì che la mia moneta non perda mai di valore altrimenti i tuoi risparmi che sono denominati nelle mie moneta si polverizzano quindi scientificamente il deficit commerciale viene perseguito ma questo grava sulla popolazione originaria cioè importare così tante merci e farlo scientificamente spinge fuori dal mercato interi settori produttivi dell'economia nazionale di genera frustrazione disoccupazione incapacità di conversione ad altri sistemi produttivi di una popolazione ad esempio nelle sue fasce più anziane meno qualificate eccetera da questa frustrazione che è tipicamente imperiale germina in maniera ciclica peraltro non è la prima volta un sentimento come quello che ha condotto Trump alla Casa Bianca cioè Trump è stato chiesto paradossalmente dall'America profonda di mettere fino all'impero che è un altro dei punti a cui tu facevi riferimento quindi di trasformare gli Stati Uniti in una potenza nazionalistica che si fa soltanto i cavoli propri che smette di essere il pello del sistema sia economico di compratore di ultima istanza del sistema per dirlo in termini economici smette di essere il gendarme del mondo come dicono gli americani the world policeman cioè il poliziotto del mondo e si occupa soltanto di se stesso ovviamente non possono farlo gli americani non possono e non potranno farlo perché se è vero che non si diventa impero volontariamente non si smette di essere nemmeno volontariamente cioè ci si crepa da impero così ci capiamo che si fa un giro per Milano noterà che ci sono dei ruderi romani a Roma ce ne sono qualcuno di più anche più bello questo per dire che ci si muore da impero non c'è un momento in cui ci si tira in dire si va in pensione da impero gli inglesi tutto sommato sono riusciti a farlo nella maniera meno drammatica possibile ma c'è tempo c'è tempo per vedere questi fenomeni si sviluppano durante secoli gli inglesi sono stati molto intelligenti obiettivamente nell'accollarsi agli americani cioè una specie di tentativo che fecero i greci con i romani che i greci erano usciti o meno però gli inglesi invece hanno avuto maggiore fortuna ma di là di questo le condizioni che hanno germinato l'impero americano sono tutte lì indipendentemente da Trump facciamo un esempio parallelamente all'importazione di merci che è assoluta in tutti gli imperi globali è necessaria la Cina è un cliente degli Stati Uniti cioè un socio di minoranza dell'impero americano perché dipende dagli Stati Uniti per le sue esportazioni allo stesso tempo importare tante merci vuol dire anche importare esseri umani che è un altro elemento classico della dimensione imperiale gli americani importano da sempre centinaia di migliaia a milioni di persone è brutale dirlo ovviamente importare esseri umani fa discretamente pressione ma è necessario alla natura dell'impero a che cosa serve importare esseri umani prima citavi la dimensione demografica assolutamente corretta non solo perché demograficamente in realtà tendiamo a volte anche a sovravalutarla perché non basta essere tanti bisogna anche essere molto capaci ci sono popolazioni nettamente più popolose di altre che sono meno capaci dal punto di vista militare economico culturale eccetera l'altro non riguarda questo un pregiudizio razziale la storia è ciclica quindi ci sono momenti in cui sono meno capaci poi tenderanno ad esserlo di più eccetera ma le fasi storiche prevedono differenze da questo punto di vista bisanzio ad esempio è stata una città vuota per due secoli che demograficamente non esisteva più letteralmente ma ci mette due secoli per crollare nel quindicesimo secolo sotto l'avanzata dei turchi quindi la dimensione demografica conta sempre fino a un certo punto però conta ed è molto importante e un impero tende ad importare uomini per due ragioni non solo per mantenersi demograficamente rilevanti ma soprattutto per mantenersi giovane e violento questa dimensione dell'immigrazione che è una categoria della potenza del tutto sconosciuta dalle nostre parti è fondamentale nell'approccio ad esempio che hanno al mondo gli americani da sempre tendono ad avere questo tipo di necessità cioè l'età media mediana della popolazione americana è nettamente più bassa della nostra grazie all'immigrazione e la civiltà la società americana nettamente più violenta della nostra grazie all'immigrazione chi di voi penso sarà capitato a tutti di farsi un viaggio negli Stati Uniti avrà notato che la loro società è molto più violente della nostra non c'è una rete sociale reale come la immaginiamo noi non c'è un welfare come lo immaginiamo non solo perché poi gli americani sono pazzi e si sparano fra di loro ma non c'è proprio una rete sociale cioè morire negli Stati Uniti per mancanza di rete sociale è qualcosa di normalissimo e gli americani tengono molto a questa non può sembrare assurdo ma mantenere la loro società violenta è qualcosa a cui tengono molto facciamo un esempio da questo punto di vista Trump che coglie immediatamente la frustrazione diciamo imperiale della popolazione profonda a un certo punto va oltre ciò che aveva capito Trump è un signore di piena campagna elettorale a un certo punto Trump annuncia l'assicurazione sanitaria universale la trovate molto famosa rilasciata alla CNN che per noi è tutto normale noi tra le poco tante cose che abbiamo per cui l'Italia è famosa nel mondo a noi può sembrare un po' strano è il sistema sanitario che da sempre in tutte le classifiche internazionali è fra i primi cinque posti del mondo per valore qualità spese e abbiamo diciamo un'ovvietà un sistema universalistico non si paga per farsi curare ecco semmeno ci intendiamo in Italia fortunatamente in America si paga per curarsi Trump annuncia l'assicurazione sanitaria universale nessuno mai nella storia americana sarà spinto a tanto nemmeno Obama nemmeno lontanamente Obama si crea immediatamente una sommossa in tutti gli elettorati ma in particolare nell'elettorato di Trump quello che Trump aveva selezionato come il proprio cioè togliere quella parte di violenza di crudeltà che è tipica della società americana è considerato inaccettabile però allo stesso tempo importare così tanti esseri umani crea un'altra frustrazione all'interno della società cioè crea quella che è la peste comunitaria come dicono i sociologi cioè si crea quello scontro tipico tra il ceppo originario e i nuovi arrivati che è tipico di tutte le società anche la nostra gli americani non fanno eccezione da questo punto di vista quindi la necessità di avere una casta guerriera come hanno detto gli spartani di origine esogena che è necessaria ad ogni impero crea allo stesso tempo la stessa frustrazione che crea il deficit commerciale infatti Trump che compone la sua campagna elettorale in funzione antiimperiale noterete che dibatte sempre su questi due punti e non ce l'ha in campagna elettorale e anche adesso con il diverso in quanto tale la sua è una è una istanza antiimperiale quindi non ce l'ha con i neri per esempio non parla pressoché mai dei neri noterete Trump in campagna elettorale sebbene sia non lo so un suprematista bianco come molti dicono non ne sono convinto può anche essere ma non se la non se la prende tanto con i neri di quanto con gli ispanici Trump ce l'ha sempre con gli ispanici particolare con i messicani ma ce l'ha sempre con gli ispanici perché gli ispanici sono lo straniero i neri non sono stranieri peraltro non possono insidiare la geomonia bianca negli Stati Uniti gli ispanici sì nel lungo periodo saremmo tutti morti come direbbe Keynes ma nel medio periodo sì perché sono la parte della popolazione che in senso imperiale gli americani importano importano da moltissimi anni da qui tutta la questione del muro che non è la sua però Trump si è intestato che esiste da tempo eccetera eccetera sulla quale non dibatteremo questa è la condizione tipica dell'impero americano quindi controllo delle rotte marittime tutte quante impotenza quindi incapacità di impedire agli altri di viaggiarci quindi controllo dei mari necessità di importanza portare merci e persone e nell'Asia Pacifico tutte queste dimensioni della potenza americana sono presentissime si ritrovano non solo nella loro capacità di esistere ma anche nella incapacità di averle degli altri anche per scelta intendiamoci quando sotto dittatura Douglas MacArthur che era il generale americano come ben sapete che arriva come prendi potenziali in Giappone dopo la seconda guerra mondiale detta la Costituzione che la Costituzione attuale del Giappone proprio la detta letteralmente cioè scrive insieme al suo collaboratore e anche ad alcuni consulenti anche italiani devo dire perché come sapete gli amatologi italiani specialmente provenienti dall'Università di Napoli sono sempre stati se non i migliori del mondo poco ci manca scrivono i vari articoli della Costituzione giapponese c'è uno molto famoso con il quale il Giappone rinuncia alla guerra gli americani si mangiano le mani dopo veglielo imposto una specie di sindrome cartaginese romana appunto nel quale il nemico sconfitto non deve vedere più crescere l'erba che è sempre un grande errore ma non da tutti i stati umanitari questo è evidente ma proprio strategico se ne rendono conto poco dopo Nixon definirà il benedetto articolo 9 della Costituzione giapponese un errore grave ma onesto i giapponesi lo sfruttano immediatamente per non far più la guerra da allora fino ad oggi gli americani benissimo adesso la fate voi per noi i giapponesi non sono esattamente cretini e si concettano sulla potenza economica cioè vivono molto meglio quindi nell'Asia Pacifico si incontrano clientes nel senso latino degli Stati Uniti cioè provincia dell'impero americano che si sono appoggiati all'impero americano e l'hanno fatto scientificamente per errori degli Stati Uniti in caso il giapponese è eclatante il giapponese sarebbe stato ad esempio durante la guerra fredda molto utile a bloccare la flotta sovietica nel Pacifico settentrionale ma i giapponesi sono sempre rifiutati di farlo portando aducendo come scusa proprio la costituzione che si sono inventati in un momento di hubris gli americani quindi la dimensione imprena americana ha caratteristiche nell'Asia Pacifico anche di questo tipo durante la guerra fredda il proposito strategico e quindi questa è l'occasione prima faccio riferimento alla differenza tra strategia e tattica quindi ce la togliamo direttamente spesso i due termini sono utilizzati anche a livello giornalistico in maniera identica sono sinonimi in realtà non sono per niente mi sarà capitato di leggere è un errore tattico è un errore strategico ha cambiato strategia che è una delle cose più divertenti in geopolitica è questa cioè cambiare strategia è proprio impossibile va al di là delle capacità umane cambiare tattica si può cioè la strategia è ciò la geopolitica tende a concettarsi di ciò che gli attori devono fare e non che possono fare nell'assoluta presunzione geopolitica le caratteristiche geografiche demografiche storiche impongono una certa condotta agli attori per cui poi la geopolitica si trasforma attraverso una sorta di determinismo assoluto in futurologia se è vero che ciò che devono fare è costrizione posso prevedere divinare da qui a cento anni ciò che faranno questo forse è troppo però è il grande vantaggio tendo la previsione da qui a cent'anni per chi la fa intendo di non doverle rispondere che non è male ne risponderà qualcun altro per me se volessi se avessi queste perversioni e non è male ma la strategia che cos'è? è andare dal punto A al punto B e farlo per forza cioè non ci può essere modo di derogare la strategia esempio gli Stati Uniti per sopravvivere devono necessariamente da un punto di vista strategico sopravvivere come grande potenza si intende dominare il Nord America tutti i governi americani tutti i regimi statunitensi che si sussegueranno non potranno farne a meno cioè devono necessariamente controllare il bacino del Mississippi devono controllare il Messico devono rendere il no col Canada per rendere il no col Canada non ci vuole molto il Messico è molto più complicato e devono dominare i mari davanti a loro devono impedire che una potenza straniera e ostile si occupi di Cuba perché è l'entrata al Golfo del Messico quindi direttamente per intenderci il Golfo del Messico sfocia il Mississippi di San Pellistiano questa è la strategia americana che poi si declina con l'andare del tempo in altre maniere ad esempio impedire in tutti i quadranti internazionali e arriviamo anche al Pacifilo che una potenza possa dominarlo cioè che ci sia una potenza che domina l'Europa o l'Eurasia addirittura ancora più grave una che domini il Medio Oriente una che domini il Pacifico l'America Latina non conta niente purtroppo o per fortuna nelle grandi dinamiche internazionali quindi può succedere qualsiasi vuole indipendentemente da Monroe questa è la strategia quindi andare dal punto A dal punto B e farlo indipendentemente dalla volontà di chi guida il paese o anche dagli stessi cittadini cioè la strategia si persegue involontariamente la strategia italiana è sempre la stessa dalla seconda guerra mondiale ad oggi in particolare providentica la tattica varia la tattica è io devo andare dal punto A al punto B per andarci posso passare da C da D da E da F e questo si modifica anche per capriccio in alcuni casi più spesso invece perché non si vive in un vuoto quindi c'è anche l'intervento degli altri attori internazionali che ci cambiano le carte in tavola che hanno caratteristiche diverse nel corso del tempo dei paesi che cambiano dal punto di vista della loro percezione eccetera eccetera quindi le differenze tra strategia e tattica sono evidenti nel caso americano una parte l'ho citata così velocemente non passando quella che riguarda lo scenario dell'Asia Pacifica impedire come in altri quadranti così anche l'Asia Pacifica che una sola potenza possa dominare ad oggi non ci sono anche qui quando discutiamo di declino degli Stati Uniti non ci sono potenze che dominino il loro continente d'appartenenza si può discutere se la Cina domina il proprio continente d'appartenenza ma diventa difficile sostenere il momento in cui la Cina non riesce ad uscire di casa letteralmente a livello marittimo cioè la Cina non domina i mari che si affacciano sul suo territorio il mar cinese meridionale il mar cinese orientale non sono dominati dallo Cina in nessuna maniera nel migliore dei casi la Cina contende il domino ad altri più realisticamente non riesce a sostenere il dominio di questi mari da parte americana in alcuni casi da parte giapponese quindi quando sentiamo discutere molto di declinio ascendenze tendiamo a dimenticare quelli che sono i dati hard della geopolitica con i quali bisogna fare i conti necessariamente andando direttamente a occuparci di pacifico la Cina non è una potenza marittima non lo è mai stata è sempre stato un paese continentale che si occupa del proprio continente perché? perché è un paese molto vasto ma che ha sempre avuto grandi divisioni interne per cui era necessario occuparsi della propria pancia del proprio ventre prima di guardare fuori inoltre una popolazione sempre molto vasta una demografia quindi torniamo un po' al dilemma della demografia che è sì importante ma può diventare anche una caratteristica che poi costringe a spendere numerose risorse un paese così popoloso è necessario anzitutto controllarlo cioè è difficile quando c'è una popolazione così ampia e non del tutto omogenea come quella cinese sebbene l'etnia Anna sia prevalente ma non lo è sempre stato non lo è del tutto nemmeno oggi all'interno della Cina come è ovvio evidentemente bisogna concentrarsi su proprio un belico guardare poi fuori diventa difficile i cinesi hanno talmente tanta paura delle invasioni e talmente tanta necessità di concentrarsi su di loro che si inventano una grande muragna che è ovviamente una misura di carattere difensivo militare che segnala ormai di qualche tempo fa ovviamente ma segnala quella che è la classica paura cinese dell'avvento esterno dell'arrivo di una potenza esterna di un arrivo che avviene via terra Hegel diceva il mare per i cinesi è semplicemente la fine della terra cioè non hanno mai avuto la percezione di sé come talsocrazia non lo sono mai stati questo impedisce oggi alla Cina di dominare il suo continente di appartenenza diventa difficile scardinare l'egemonia globale americana senza dominare il proprio continente di appartenenza io ho difficoltà ad uscire di casa però penso di dominare la città diventa un po' complicato però tendiamo a dimenticarcene specialmente in Italia devo dire dove c'è ripeto una visione economicistica degli eventi che ci porta sempre puntualmente fuori strada peraltro la Cina ha grandi difficoltà anche dal punto di vista economico di questo proveremo a discutere l'atteggiamento americano nei confronti della Cina da una quindicina ventina ormai di anni a questa parte è quello di controllare la Cina e immaginarla come fra tutte le potenze quella più pericolosa per l'egemonia globale americana su questo non c'è dubbio è di applicare alla Cina di fatto le stesse categorie che gli americani applicarono nella Unione Sovietica durante la guerra fredda cioè il contenimento come tattica appunto siamo in un ambito di tattica il contenimento ci serve a distinguere in maniera pratica la strategia e la tattica la strategia americana vuole impedire che una potenza domini il continente asiatico la tattica è il mezzo con il quale gli americani perseguono questa strategia il contenimento della Cina che inizia diciamo dall'inizio degli anni 90 ma entra nel vivo alla fine degli anni 90 prosegue tutt'oggi si declina in dizioni diverse il dipartimento di Stato cioè il ministero degli esteri americano durante il periodo di Obama lo chiama pivot to Asia tradotto in italiano come perno asiatico in questa fase trampiana viene ribattezzato perno indo-asiatico ed è su questo torneremo diciamo il suffisso indo non è male interessante anche per farci capire che cosa sta succedendo ma comunque gli americani hanno idea di contenere la Cina di farlo scientemente cioè che vuol dire contenere significa impedire che l'ascesa economica peraltro oggi molto frastagliata della Cina l'ascesa economica cinese si traduca in egemonia nei confronti del suo estero vicino per usare un'espressione russa cioè si traduca in egemonia nei confronti di tutta la regione di competenza quindi non parliamo nemmeno lontanamente di controllo del mondo che non esiste ad oggi chissà se mai esisterà della Cina poi si può discutere se sia meglio o peggio del controllo americano non lo so gli americani da questo punto di vista nel loro modo di essere un po' un po' gigioni diciamo così ci hanno consentito di farne parte come popolazione astrogettata del loro impero rendendocene conto fino ad un certo punto infatti abbiamo l'opportunità di discutere spesso se gli americani sono in declinio o no qualche tempo fa non sarebbe stato possibile senza arrivare ai tedeschi o ai francesi ma anche noi cioè gli italiani che dominano il mondo sarebbero stati molto liberali noi gli scempi nei momenti in cui abbiamo dominato qualche regione del pianeta ne abbiamo commesso insomma in Africa ne abbiamo fatte di cotti o di crude gli americani anche però tutto sommato non so se per me può succedere qualsiasi cosa sono legato agli americani in quanto tale anzi ma non sono sicuro che andremmo a stare meglio nel loro assenza questo no al momento non c'è questo rischio una caratteristica è che qualsiasi studioso e di qualsiasi essere umano aggiungerei è di credere di vivere una vita straordinaria tutti noi ne siamo convinti i social network servono a questo se no perché mai tu dovresti mettere il piatto che ti stai mangiando con una foto su Instagram perché credi di vivere una vita straordinaria se tu ragionassi sul fatto che tutti mangiano tutti i giorni piatti tutti i tipi forse non ce lo metteresti ma gli studiosi non fanno differenza sono convinti di vivere una vita straordinaria quindi non si accontentano di essere visti soltanto in un lasso temporale di dominio americano del mondo quindi cercano da sempre il modo di determinare che questo stia finendo e che siamo in una fase di avvento diverso perché è molto più divertente tu pensa tutta la vita che invece è quello che faccio immediatamente io a raccontare l'impero americano cioè senza mai capirlo perché capire l'impero americano è difficilissimo ma molto più divertente dire io sono vissuto a cavallo fra due ere tu lasci anche dal punto di vista filologico cioè lasci nelle tue opere qualcos'altro purtroppo per fortuna nei prossimi anni questo ci è dato di vivere forse tra 50 anni no nel lungo periodo senza citare normalmente Keynes chissà chi ci sarà ma in questi prossimi decenni è difficile immaginare qualcos'altro prendiamo la Cina che invece viene raccontata la Russia poverina la lasciamo stare insomma vive una fase di straordinaria e talmente grande difficoltà anche per questo è più pericolosa però la Russia è un paese che sa stare al mondo quindi non si non si arrenderà la sua condizione a proposito di paesi vivono in dimensione storica e che dimensione storica vivono i russi da cui il pregiudizio per cui se eliminassimo Putin ne sentiamo dire di queste follie la Russia diventerebbe un paese occidentale non diventerebbe un paese occidentale cioè i russi hanno un'idea di sé che è chiarissima lucidissima è estremamente imperiale non l'ha inventata Putin Putin nel prodotto gli americani anche i cinesi anche ma i problemi cinesi nell'Asia Pacifica non sono soltanto legati all'aspetto marittimo prendiamo la questione delle vie della seta che rientra direttamente nel contenimento americano si discute moltissimo di vie della seta anche in Italia che cosa sono le vie della seta per chi non lo sapesse immagino lo sappiano tutti le vie della seta sono questa invenzione cinese per cui attraverso la costruzione di infrastrutture ha una duplice dimensione quella delle vie della seta una dimensione terrestre e una marittima la dimensione marittima è una dimensione più blanda più sbiadita per evidenti ragioni ne abbiamo già discusso per quanto riguarda la Cina molto più importante interessante ma meno fattibile quella terrestre cioè i cinesi immaginano di costruire delle infrastrutture che partendo dalla costa orientale cinese quindi la Cina orientale c'è una sua costa attraverso l'Asia centrale fino ad arrivare in Europa attraverso queste infrastrutture possano commerciare direttamente con l'Europa cioè con noi e nel loro passaggio portare benessere e sviluppo a tutti i paesi dell'Asia centrale che andassero o andranno fate voi a toccare ma perché esiste la vie della seta la vie della seta ci rimanda già a ciò che dicevamo prima se i mari sono controllati dagli americani io ho necessità di andare via terra cioè visto che non posso affrancarmi dal domine americano dei mari visto che non posso uscire di casa come vorrei devo andare via terra ma l'immagine stessa di quanto può essere dispendioso un progetto di questo tipo che cosa può significare costruire infrastrutture di trasporto dalla Cina a Dusseldorf che è il termine finale della vie della seta già questo che è roba da impazzimento cioè su uno ci si mette coscientemente impazzisce cioè questo ci dà l'idea della difficoltà cinese se io per scardinare un'egemonia altrui o semplicemente per sopravvivere devo immaginare un progetto di questo tipo sono in grande difficoltà a me sono un processo che riesco a realizzarlo c'è l'altra dimensione che è quella marittima per cui i cinesi costruiscono altre infrastrutture ma portuali in alcuni porti che dal mar cinese meridionale passando per l'oceano indiano e poi arrivando nel Mediterraneo diventino un'altra parte un altro modo per affrancarsi nel dominio americano la Cina tutto ciò che esporta per il 90% passa via mare cioè passa dove comandano gli americani questo ci dà l'idea della sensazione del cerchiamento corretta che hanno i cinesi nei confronti degli americani quindi immaginano queste vie della seta che peraltro dovrebbero arrivare non si capisce bene ma non per colpa dei cinesi anche in Italia i cinesi hanno già ad esempio comprato il porto del Pireo come sapete da diversi anni quindi il porto di Atene in Grecia immaginavano di sbarcare inizialmente a Gioia Tau in Italia non sono stati accolti benissimo ci sono state proteste sindacali più o meno reali hanno provato poi con Taranto non è andata bene nemmeno lì poi sono saliti non sono interessati a Venezia per ragioni logistiche perché è troppo complicata adesso sembra che sia un interesse da Trieste ma questo non è un bene per l'Italia cioè lo è per carità questo non è un bene in assoluto per l'Italia se non fossero costruite infrastrutture che al momento non ci sono cioè Trieste è meglio collegata all'impero asburgico quindi va dritta verso nord come infrastrutture ma chiunque viva nel nord Italia sa che andare da est ad ovest a nord Italia è complicatissimo a livello di infrastrutture perché la direttrice è nord-sud e quindi andare ad esempio da Venezia a Genova è quasi impossibile cioè è complicatissimo per cui l'Italia dovrebbe costruire l'infrastruttura a sua volta per sfruttare Trieste come il porto questo 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 si interessa a me però la Cina ha un'idea di arrivare in Europa in questa maniera di affrancarsi dal domino americano in questa maniera a me se è un processo che riesca in un progetto di questo tipo vi rendete conto da soli di che tipo di progetto sia di quale difficoltà ha nel confrontarsi con gli Stati Uniti i due classici problemi che la Cina ha sono non solo quello di uscire di casa di controllare i mari ma sono anche quello di molto importante molto pressante di trasferire ricchezza dalla sua costa che da sempre la parte più luminosa del paese quella più progettiva verso l'interno nel momento in cui noi assistiamo a Xi Jinping cioè a presidente cinese che si arroga poteri straordinari dobbiamo chiederci perché le cose non avvengono mai casualmente perché ovviamente Xi Jinping è una persona molto intelligente molto capace in considero del fatto che nei prossimi anni la Cina vivrà una fase di grande difficoltà che crede di poter affrontare soltanto attraverso poteri speciali nelle sue mani innanzitutto perché avrà necessità di trasferire ripeto ricchezza della costa all'interno il modo per farlo per costringere i potentati economici delle coste che hanno una visione quasi capitalista quasi non è superfluo hanno una visione capitalistica del loro modo di essere ma hanno nessuna intenzione di trasferire ricchezza dalla costa verso l'interno non ci pensano proprio quindi di rinunciare ad una parte della loro verso l'interno ma ancora qui un paese che dipende dalle esportazioni come la Cina è un paese fragile per eccellenza un paese fragile per eccellenza è la Germania la Germania esporta quasi il 40% del suo PIN è una sorta quasi di sindrome amorosa se io dipendo per il mio umore dall'oggetto del mio desiderio è chiaro che sono fragile per eccellenza cioè sta all'oggetto del mio desiderio determinare il mio umore e un paese esportatore vive nella stessa condizione cioè nel momento in cui gli altri smettessero di acquistarne i prodotti vivrebbe letteralmente un collasso noi invece abbiamo idea delle capacità di esportazioni come sono per carità il segnale di una grande capacità cioè di un paese che produce più di quanto possa assorbire talmente capace che gli altri ne vogliono i prodotti l'Italia è un paese di questo tipo un paese che con pochissime risorse interne produce talmente straordinario nella produzione industriale nella qualità dei suoi prodotti che li vende in grande quantità all'estero ma è chiaro che dipende dagli altri per la sua ricchezza tutti i paesi di esportazione la Cina non fa differenza non è un problema se tu sei l'Italia o la Germania lo è ma non è un problema nei massimi sistemi lo è se tu vuoi scardinare il sistema globale di un altro paese perché il primo mercato cinese è il mercato americano è evidente che c'è un problema senza citare Houston c'è proprio un problema nel momento in cui gli americani vanno alla guerra commerciale con la Cina è chiaro che c'è chi ha il contello dalla parte del manico e chi non ce l'ha l'America esporta il 13% del suo PIL cioè un paese che vive di sé essenzialmente esporta vuol dire che tutto ciò che compra lo fa scientificamente come dicevamo che nel momento in cui non tornerà mai il protezionismo quindi torniamo al nazionalismo di Trump al mercantilismo di Trump potrà mai tornerà il protezionismo l'America posizionismo mettendo to cure quando smetterà di essere l'impero globale quando non ne avrà più le capacità quindi non ora ma nel momento in cui entra in una guerra commerciale è evidente che al contello da parte del manico non vuol dire che non avrà contraccolpi gli americani hanno inventato questa globalizzazione quindi i paesi sono interconnessi per loro stessa volontà ed è evidente che nel momento in cui te applichi dazi all'acciaio l'acciaio riguarda anche la componentistica non soltanto l'importazione in quanto tale i prodotti tendono a costare di più quindi a costare di più anche per il consumatore americano ma nel momento in cui una guerra commerciale diventa anche alto gli Stati Uniti sono schermati da questo punto di vista perché non dipendono dalle loro esportazioni per vivere per questo la Cina ha necessità di aumentare il proprio mercato interno per dire non vietare cioè trasferire ricchezza dal solo interno il problema della Cina è da sempre però questo non è mai riuscito a superarlo nella sua lunghissima storia non c'è mai riuscita e oggi vive questo tipo di sfida come si inseriscono gli americani non soltanto attraverso la guerra commerciale che è strategica nel momento in cui riguarda il tentativo di impedire alla Cina di dominare il suo continente ma è anche tattica nell'idea di Trump cioè Trump è stato eletto per questa ragione per far diminuire il deficit commerciale americano Trump non ha come nessun presidente americano cognizione strategica degli eventi fa un altro mestiere un politico non viene chiesto di avere beato lui sia un po' di cose anche più divertenti di avere una cognizione strategica di ciò che gli avviene attorno figurarsi Trump è stato eletto per questo motivo e persegue in maniera molto coerente questo tipo di obiettivo il problema è tutto cinese in questo senso per Trump il problema può essere elettorale c'è un momento in cui i prodotti costassero di più per il contribuente e per il consumatore americano questa è un riverbero negativa alle urne nei fronti di Trump il problema strategico per gli Stati Uniti non c'è non è questo che preoccupa gli Stati Uniti per la Cina invece è un grande problema al quale prova a sottrarsi attraverso la creazione delle vie della seta e trasferimento di poteri straordinari a Xi Jinping che pensa di poter utilizzare ripeto per obbligare in maniera coatta il trasferimento di ricchezza dalla costa all'interno e soprattutto immagina il momento in cui l'economia cinese subisse grandi contraccolpi verso i quali comunque rischia di andare nei prossimi anni poter utilizzare andiamo al nazionalismo la Cina può essere un paese nazionalista come no non è il perno di un sistema globale quindi può essere tranquillamente nazionalista la Cina utilizzerà nei prossimi anni il nazionalismo come moneta anche di distrazione dell'opinione pubblica tendenzialmente quindi proviamo a capirci e poi mi fermo per dare spazio anche ad altre domande che tu hai e poi a quelle del pubblico tendenzialmente i paesi possono vivere di due soddisfazioni diciamo così due compimenti quello economico oppure quello strategico quello geopolitico noi siamo convinti che esista soltanto quello economico l'abbiamo discusso spesso questa mattina tanto è vero che tendiamo a valutare anche gli altri ma se noi applichiamo le sanzioni alla Russia vedrai che la Russia imploderà perché si moriranno di fame questo il soldoni è al di là delle edulcorazioni e se la prenderanno con la loro leadership a quel punto ci sarà un rovesciamento della leadership il famoso regime change cambio di regime e il regime successivo sarà necessariamente simpatetico nei confronti di chi li ha portati alla fame questo è il ragionamento anche molto americano delle questioni il problema qual è? che i russi si sono quasi sempre morti di fame nella vita ma sono sempre stati russi cioè questo noi fatichiamo moltissimo a comprendere i cinesi anche non è un dettaglio cioè è una delle caratteristiche più importanti su cui poi si basano le relazioni internazionali in Italia del tutto misconosciuta cioè un termine un sostitivo come gloria a noi sembra qualcosa di anacronistico ci fa quasi sorridere ci sono paesi che vivono di gloria cioè se noi ce lo raccontiamo non ci crediamo gli italiani vivono di gloria insomma forse se si ne morano di una che si chiama gloria ma vivere di gloria o la canzone famosa gli americani vivono di gloria a noi questo è assurdo letteralmente ma funziona proprio così cioè a che cosa significa un paese quindi può avere un compimento economico oppure un compimento strategico i russi restano tali perché pensano in alcuni casi anche vero di contare nel mondo che è più importante di essere ricchi ripeto non è un dettaglio è fondamentale i cinesi anche i turchi anche gli iraniani anche questo vuol dire essere molto storici quindi il compimento che la Cina non potrà avere nei prossimi anni a livello economico lo andrà a cercare in questo senso lo andrà a cercare nella gloria imponendosi anche militarmente nei confronti dei suoi vicini perché la gloria diventa ripeto cioè la soddisfazione geopolitica diventa una moneta assonante da dare ai propri sudditi ai propri cittadini chiamate di quello vogliamo questo riguarda anche una guerra commerciale ad esempio tra Stati Uniti ed Europa l'Europa è stato geopolitico ovviamente non esiste tra Stati Uniti e paesi europei cioè nel momento in cui gli Stati Uniti vanno alla guerra commerciale non è detto che lo facciano fin in fondo ma potrebbero sicuramente con alcuni paesi europei quelli più importanti Germania anzitutto che ha rapporti difficilisti con gli Stati Uniti in questa fase è evidente che i paesi europei non possono sostenere una guerra commerciale con gli Stati Uniti ma non per ragioni strettamente economiche perché a quel punto ripeto la guerra diventa non alla pari la Germania exporta al 40% il suo film l'America al 13% è evidente qual è la parte più debole più fragile della guerra commerciale ma non soltanto per questo perché gli americani possono sostenere una lunga fase anche di privazione economica cioè di deterioramento delle condizioni economiche perché hanno poi nel compimento strategico la soddisfazione che noi non possiamo conoscere gli europei questo non ce l'hanno se manca il compimento strategico e pardon se manca il compimento economico in Europa la società si dilania non riesce a compattarsi non c'è nient'altro c'è la parte minimalistica per cui vive quindi la carriera personale la soddisfazione eccetera il momento in cui viene a mancare la società si sgreto società massimalistiche come quella americana cinese ma anche coreana del nord turca iraniana ma si potrebbero citare moltissime quella indiana in moltissimi casi riesce a sostenere grandi privazioni perché cerca la soddisfazione in altri campi e questo ripeto è un elemento fondamentale io spesso anche nelle lezioni e le università tendo a battere molto perché da noi è proprio incomprensibile non ci arriviamo proprio mentalmente è qualcosa ma fortunatamente noi non l'abbiamo mai conosciuto ma tornerà anche per noi prima o poi quindi non è esattamente qualcosa per cui possiamo del quale possiamo far finta che non esista da ultimissimo e poi lascio la parola a te il contenimento americano è evidente che si compone nella sua parte del pacifico in maniera quasi esclusivamente marittima mentre il contenimento americano tuttora in corso tuttora in vigore ai danni della Russia è quasi esclusivamente terrestre ma la Russia è una potenza quasi esclusivamente terrestre ma soprattutto il suo spazio è quasi esclusivamente continentale quel contenimento dei danni della Cina perché nel pacifico di questo si tratta è quasi esclusivamente marittimo cioè gli americani che cosa fanno in sintesi si pongono a dominio degli stretti degli istmi cioè quindi come spada di Damocle sulla testa dei cinesi nel momento in cui non potessero più esportare come ne hanno bisogno e poi tendono a controllare insieme a quelli che sono i cosiddetti alleati americani cioè i paesi della regione anche qui le difficoltà della Cina perché l'elemento economico non basta mai alla potenza è sempre secondario moltissimi quasi tutti dei paesi riveraschi del mar cinese meridionale orientale quasi tutti vicini della Cina dipendono dalla Cina a livello economico ma nessuno di questi è schierato con la Cina c'è qualcosa che non torna secondo i nostri parametri quindi secondo i parametri economici questo non ha senso un paese che è dipendente da un altro economicamente è legato a quel paese anche a livello strategico non è vero non succede quasi mai se non succede esclusivamente nel caso in cui l'interesse strategico è corrispondente a quello economico perché è sempre quello strategico preeminente prima della prima guerra mondiale c'era un'assoluta convinzione la famosa bell'epoca in Europa che l'interdipendenza economica avrebbe condotto ad un periodo di assoluta pace c'è chi ha vinto il premio Nobel con queste teorie poi c'è stata la prima guerra mondiale tra paesi che avevano una interdipendenza economica assoluta cioè tedeschi e francesi non erano dipendenti economicamente erano primi partimi commerciali gli uni degli altri si sono letteralmente scannati fra di loro tutti i paesi che sono intorno alla Cina che dipendono dalla Cina ne citiamo alcuni ma così sparsi dal Vietnam piuttosto che al Brunei alla Malesia piuttosto che alla Thailandia sono tutti dipendenti della Cina economicamente nessuno di questi è schierato strategicamente con la Cina la Cina non ha un alleato non è un dettaglio quando si discute di ascesa cinese nei massimi sistemi la Cina non solo non può andare in mare ma non ha un alleato l'unico alleato formale di cui dispone la Cina è la Corea del Nord insomma discutiamone la Corea del Nord a che cosa serve? la Corea del Nord nell'immaginario americano sarebbe il passaggio dal contenimento marittimo a quello continentale della Cina cioè quando viene inventata la Corea del Nord dopo la seconda guerra mondiale viene inventata come stato cuscinetto all'epoca tra Stati Uniti e l'Unione Sovietica ovviamente cioè la Corea del Nord è quello stato inventato in tutta artificiale cioè i coreani sono un popolo solo come ben sappiamo però doveva dividere l'Unione Sovietica dagli Stati Uniti e gli Stati Uniti in che senso? perché ovviamente gli americani erano presenti come lo sono tuttora in Corea del Sud oggi con circa 35.000 militari nella strategia americana la Corea del Nord serve soltanto ad essere parte del tentativo di impedire la Cina di diventare egemone nella tattica serve a portare gli americani dal mare alla terra perché? perché il confine ovviamente tra Corea del Nord e Cina è soprattutto segnato da un fiume che è il fiume Yalu nel momento in cui nell'immaginario americano la tattica americana nel medio periodo la Corea del Nord deve scomparire o per implosione quindi per assorbimento nella Corea del Sud o semplicemente per cambio di regime quindi diventare anche qui un regime vicino agli Stati Uniti un cliente degli americani questo perché? perché in quel momento appunto gli americani arriverebbero con le proprie truppe con i propri mezzi militari dalla Corea del Sud dal fiume Yalu cioè dentro casa con i piedi dentro casa della Cina questo è un proposito tattico che diventa immediatamente strategico per i cinesi cioè questa è la linea rossa assoluta dei cinesi durante la guerra 50 53 guerra di Corea tra diciamo così gli Stati Uniti ed un occidente un po' lasco e la Cina e la Corea del Nord i cinesi entrano direttamente in guerra quando gli americani si avvicinano al fiume Yalu cioè quando arrivano ad un passo dal loro confine muore il figlio di Mao il figlio prediletto di Mao viene mandato in guerra per impedire che questo avvenga cioè questo è il proposito assoluto cinese che come vedete è un proposito di retroguardia non è un paese in avanguardia espansionistica è un paese che prova a difendersi dalla potenza rompiscatole per eccellenza che sono gli americani quindi questo sarebbe la Corea del Nord nel momento in cui la Corea del Nord si dota dell'arma atomica è chiaro che il proposito tattico degli americani rischia di scomparire va sgretolandosi è veramente un colpo negativo alla tattica americana innanzitutto perché uno stato cuscinetto che diventa una potenza atomica diventa una potenza regionale cioè diventa un interlocutore nella storia non è mai successo come un paese che dispone dell'atomica sia stato attaccato non è mai successo e già questo insomma è un'assicurazione sulla vita per il regime non da poco tendo per il regime non coreano nello stesso tempo questo vuol dire che per consunzione cioè per il suo scrittolamento la Corea del Nord non imploderà resterà lì e questo è molto negativo per gli Stati Uniti che oggi letteralmente non sanno cosa fare e da una posizione di debolezza si dicono pronti a discuterne ma è chiaro che sono passati in una fase di debolezza nei confronti della Corea del Nord quando c'era stato raccontato in questi mesi è capitato spesso che Kim Jong-un questo paffuto dittatore non coreano fosse pazzo era una delle cose più divertenti da ascoltare e da sentire sui media negli ultimi tempi cioè pazzo un signore per l'altro distruito in Svizzera tant'è che sarà messo in testa di perseguire l'arma nucleare come assicurazione sulla vita del suo regime se questo è un folle insomma possiamo discutere dipende qual è la follia per lui sopravvivere per il suo regime è il principio strategico per eccellenza e quindi si è dimostrato folle per niente anzi in questo momento quando vedete la fase di riavvicinamento fra le Coree eccetera è semplicemente la capacità della Corea del Nord che adesso ha l'arma atomica di imporre il fatto compiuto al Sud cioè di estendere la sua influenza sul Sud su un paese economicamente nettamente superiore ma neanche paragonabile la Corea del Sud è un paese che vale economicamente a livello mondiale la Corea del Nord è un paese che stenta a sopravvivere cioè hanno con grandi difficoltà i Corea del Nord hanno cibo sulla loro tavola ma oggi la Corea del Nord estende la sua influenza sulla Corea del Sud non c'è nessuna distensione la Corea del Nord appunto che impone al Sud ciò che è diventata cioè una potenza nucleare da qui il dramma degli americani che non sanno esattamente cosa fare peraltro in geopolitica visto che abbiamo citato la parte della follia noi dedicheremo ogni anno Dimes a un suo festival ogni anno organizza Genova anche quest'anno il primo fine settimana di maggio ci sarà il festival di Dimes ci sarà un panel dedicato proprio alla follia e alla geopolitica perché tra l'altro con Giuliano Ferrara con Lucio Caraccio eccetera perché la follia da putista tattico è un mezzo fondamentale cioè mostrarsi folli o perlomeno imprevedibili e Trump su questo ci lavora molto non è poco è come giocare a poker e non essere mai capace a bleffare se tu non sei mai capace a bleffare perdi quasi sempre anche se hai il punto più alto quindi Kim Jong-un e anche Trump e se tutti non sono matti per niente ma hanno capacità di braffare ad esempio Obama non aveva Obama era un signore molto facile da intelleggere e quindi anche molto semplice da prevedere cioè tu sai sapevi perlomeno che se tu lo provocavi di grandezza uno lui avrebbe risposto uno non avevi mai il dubbio come invece devi averlo davanti a una persona che comunque dispone di un'artistitale nucleare del genere di mezzi militari di quel tipo che se tu lo vai a stuzzicare per uno lui potrebbe anche rispondere cinquecento cioè è fondamentale in geopolitica anche se di questo poi discutiamo un anno avanti se vuoi prima di concludere il Presidente americano non è un imperatore perché questa è una delle grandi contraddizioni che queste difficilissime da spiegare da queste parti il Presidente americano ha poteri molto limitati l'America è un impero che non ha un imperatore è un'incongruenza ma è l'assoluta verità grazie prima di lasciare la parola grazie che però potrebbe acquistare una nuova fase ma questa è la che in fondo mi sembra il vostro ultimo numero esattamente questo ci abbiamo indicato questo numero il titolo è evocativo in questo senso si chiama la rivoluzione giapponese che il Giappone il Giappone è una delle grandi potenze uno dei paesi del tutto abbandonati dalla nostra pubblicistica diciamo che il Giappone si è collegato alle pagine finanziarie mediamente oppure della narrativa esotica cioè non si sfugge da questi due poli il Giappone non solo è la terza economia del mondo questo è Arcinoto è stato a lungo la seconda economia del mondo come di essere superato nella Cina cioè da un paese che ha 12 volte la sua popolazione ma il Giappone è uno straordinario paese anche dopo il disagio politico soprattutto in una fase come questa per cui a nostro avviso il Giappone sta ripensando se stesso dicevo prima del pacifismo giapponese imposto dagli americani che in realtà è una forma di isolazionismo cioè quello che è stato raccontato come pacifismo giapponese non era altro un isolazionismo il Giappone è un paese che è stato isolazionista per secoli quando gli americani che anche qui torniamo agli americani come rompiscatole potremmo usare anche un'espressione peggiore ma ci siamo capiti nel 1853 gli americani vanno a rompere le scatole anche i giapponesi non potevano farsi mancare anche questo cioè il comodoro perde e arriva in Giappone nella baglia di Edo e costringe i giapponesi ad aprirsi all'esterno fino a quel momento il Giappone era un paese feudale cioè noi questo fa impresione nel momento in cui l'Italia viveva le sue posizioni risorgimentali ed era un passo dalla unificazione dalla unificazione forse meglio il Giappone nel 1853 era un paese feudale cioè come era l'Italia nel XVII secolo la velocità che il Giappone ha di cambiare è impareggiata nella storia dell'uomo cioè non esiste altro popolo che ha la capacità la velocità di cambiare i cani giapponesi e questo è alla base del titolo del nostro numero e anche dello studio che abbiamo fatto sul Giappone cioè il Giappone nel 1853 passa da essere un paese feudale in 30 anni ad essere le gemole regionale in 50 anni diventa non solo una potenza coloniale ed egemonica diventa il paese che sfida direttamente il controllo americano del Pacifico quindi attraverso Pearl Harbor ed umilia la Gran Bretagna cioè la potenza anche il Giappone non ha tarsocrazia ovviamente per dire una novietà c'è una potenza marittima il Giappone umilia la Gran Bretagna che era stata e lo era ancora parzialmente la più grande potenza navale del mondo sottraendole Singapore e Hong Kong velocissimamente subisce due bombe atomiche come non è successa nemmeno una non è successa in nessun altro paese del mondo e diventa avanguardia tecnologica del paese dopo la distruzione della seconda guerra mondiale nel giro di vent'anni cioè questa capacità di cambiare che avrebbe disintegrato qualsiasi altra società lascia il Giappone mediamente così com'è ed è una delle ragioni per cui è difficilissimo da comprendere perché il Giappone a prima vista è sempre uguale cioè riesce a superare questi cambiamenti che ripeto avrebbero distrutto qualsiasi altra nazione quasi in maniera silenziosa anzi sicuramente in maniera silenziosa e velocissimamente mantenendosi se stesso cioè viene citato nel numero c'è uno studioso francese che si rega in Giappone si fa un giro per il Giappone e il Giappone gli sembra tutto sommato molto occidentalizzato non riesce a capire quale sia l'identità giapponese si rivolge ad un suo collega gli dice il giapponese è tutto ciò che lei non vede cioè comprendere il Giappone vuol dire andare oltre la prima glassa che il Giappone offre di se stesso ed è questo che vogliamo fare in questo numero per questo la rivoluzione giapponese perché il Giappone vive una fase in cui dovrà necessariamente tornare alla geopolitica cioè a proposito che abbiamo evasciutato la strategia il proposito strategico del Giappone nel momento in cui si apre forzosamente all'esterno per costruzione americana è quello di accaparrarsi le risorse cioè le materie prime l'Italia è dopo il Giappone il più straordinario dei paesi perché è così capace così produttivo senza quasi nessuna risorsa senza risorse naturali il Giappone non ne ha proprio nessuna quindi la necessità di accaparrarsene è il proposito strategico giapponese per cui il Giappone la soggetta alla penisola coreana occupa la Cina prova ad occupare anche la Siberia proprio per andare direttamente alla fonte cioè per prendersi le risorse di cui ha bisogno con la sconfitta per mano americana sono gli americani che garantiscono il controllo delle rotte marittime quindi il Giappone si può sedere le paga le risorse non le può più prendere con la forza le paga cioè importa le risorse di cui ha bisogno e gli americani controllano il passaggio quindi il Giappone si può permettere di essere pacifista cioè si può permettere di essere isolazionista proprio perché gli americani anche come dicevamo prima in maniera un po' scellerata impongono al Giappone di essere soltanto questo oggi il Giappone va cambiando in conclusione velocemente per alcune ragioni la prima perché l'aspetto economico non basta più al Giappone prima discutevamo di gloria e di economia il Giappone che vive negli anni 90 una fase di decrescita economica ma non felice a me so anche esista una decrescita felice il Giappone che vive questa fase è ormai consapevole che non può più bastare l'economia al proprio compimento cioè una nazione così importante come il Giappone per intenderci un popolo così importante non può più vivere soltanto di soddisfazione economica ne deve avere altre e queste passano necessariamente per la geopolitica passano per il complimento geopolitico dall'altro c'è la percezione fra i giapponesi che gli americani non siano più affidabili come una volta probabilmente non è vero nel senso che gli americani sono una potenza adolescenziale quindi vivono di fase vanno dall'alto al basso eccetera ma poi quando vengono toccati sul vivo tendono a intervenire ma la sicurezza che gli americani muoiano per Tokyo su cui questi giapponesi hanno ragione non ce l'hanno quindi devono guardarsi le spalle maggiormente da soli quindi devono riarmarsi maggiormente e poi hanno il grande problema della Cina è vero che la Cina nei massimi sistemi cioè nel controllo del globo ha grandi difficoltà ma è altrettanto vero che a livello regionale è in assoluto la potenza più pericolosa ed è peraltro il nemico per eccellenza del Giappone queste tre ragioni quindi scadimento della condizione economica come legittimazione del proprio stare al mondo poca fiducia nei frutti degli Stati Uniti e paura della Cina porterà nei prossimi anni ad un cambiamento netto del Giappone tradotto ce lo ritroveremo il Giappone nelle cronache geopolitiche non sarà più soltanto la potenza di cui si occupa ed anche bene in solo 24 ore sarà qualcosa di cui si occuperanno gli strateghi perché il Giappone ha questa capacità di cambiare velocissimamente che ciò che oggi sembra lontano in pochissimi anni diventa velocissimo cioè i Giapponesi quando gli americani arrivano ripeto alla metà dell'Ottocento si stupiscono perché le navi americane andavano contro vento erano navi a vapore non le avevano mai viste cioè come è possibile che il vento spira in senso contrario e loro vengono verso di noi 30 anni dopo i Giapponesi producono una porta aerei che non aveva niente da invidare a quella americana cioè questa capacità di ribaltare la loro natura ciò che condurrà il Giappone nei prossimi anni ad essere ad essere qualcos'altro quindi alla nuova rivoluzione del Giappone non vuol dire che il Giappone avrà la capacità di dominare l'Asia perché demograficamente diciamo la demografia può essere importante e anche negativa ma certo può essere anche importante non c'è più che il Giappone è un paese che demograficamente va morendo quindi nel lungo periodo non ci sarà come grande potenza se queste sono le condizioni che rimarranno se non cambierà il razzismo ancestrale dei Giapponesi che li porta ad avere un approccio all'immigrazione che è di chiusura totale i Giapponesi sono un paese autoreferenziale per eccellenza isolano di questo punto di vista per cui la cosmogonia giapponese ad esempio è una cosmogonia che riguarda esclusivamente il Giappone non lo so il nostro dio il dio diciamo del mondo occidentale quindi cristiano ha creato tutto il pianeta fino a prova contraria i numi che i giapponesi mettono alla testa della creazione che sono i zanami e i zanagi creano soltanto le isole giapponesi perché questo ci dà l'idea di una percezione del mondo e nemmeno tutte l'isola di Hokkaido se la dimenticano che è l'isola che è il nord del Giappone non creano Okinawa ma questo perché ovviamente all'essere umano il principio di causalità è sempre ribaltato cioè non è che esiste prima la creazione e poi il Giappone è vero o contrario cioè i giapponesi poi tutti gli esseri umani si scrivono una legittimazione della loro storia una filosofia della storia per l'appunto una cosmogonia tu sei consuma all'epoca Hokkaido non era nella loro visione e quindi non l'avevano creata ma questo che cosa vuol dire che non si può diventare giapponesi cioè i giapponesi non sono francesi i francesi hanno insegnato che la nazionalità è questione di cultura non biologica per i giapponesi è vero e esattamente il contrario cioè noi non potremmo mai essere giapponesi perché non discendiamo dallo stesso ceppo poi lasciamo fare che i giapponesi non sono autottoni cioè non sono nati su quelle isole probabilmente provenivano dalla penisola coreana che se glielo dici ci sono scene scomposte i giapponesi si lanciano dalle finestre cioè probabilmente dopo tutti gli studi antropologici hanno dimostrato questo cioè che i giapponesi sono molto probabilmente coreani di origine cioè almeno provengono dalla penisola coreana ripeto se ti ascoltano ci potrebbero essere scene di isteria assoluta perché poi hanno avuto un rapporto con i coreani non esattamente alla pari cioè un giapponese non considera il giapponese così ha nessuno alla sua pari ma tantomeno un coreano però ecco la demografia giapponesa sconta questo tipo di pregiudizi che a noi fanno anche sorridere ma che sono molto reali molto concrete in Giappone da ultimo cito questo caso poi ti do la palla i nippo brasiliani c'è un articolo nel numero tra l'altro ho visto grazie anche a cui è presente oggi in sala i nippo brasiliani cioè i giapponesi di origine brasiliana sono un caso di studio molto affascinante il Brasile è il paese al mondo che ha la più grande diaspora giapponese cioè il paese dopo il Giappone dove vivono più cittadini di origine giapponese immigrati tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento San Paolo ad esempio è un intero quartiere si chiama Libertaggi abitato da quasi un milione di origini giapponesi all'inizio degli anni 90 quando la demografia si va sfilacciando in Giappone e non vogliono assolutamente nessun tipo di immigrato se non come immigrato lavoratore cioè come facevano i tedeschi con gli italiani negli anni 50 cioè i gastarbeiter cioè lavori ma poi te ne vai poi ovviamente sono rimasti tutti da cui la famosa frase perché sono esseri umani non è esattamente un dettaglio la famosa frase volevamo braccio sono arrivati esseri umani i tedeschi rimangono sconvolti da questo i giapponesi hanno lo stesso tipo di atteggiamento loro pensano di prendersi lippobrasiliani perché fisicamente sono giapponesi per nessun'altra ragione se non per questo quindi pensavano di poterli ricondurre al ceppo originario hanno diritto al passaporto un po' come succede agli italiani dell'America Latina hanno diritto al passaporto e quindi tanto vale prenderceli per renderli nuovamente lipponici scoprono poi due caratteristiche di questi signori che non sono giapponesi ma che sono brasiliani cioè parlano portoghese sono attaccatissimi alla loro identità brasiliana come tutti i brasiliani peraltro e sono cristiani sono cattolici fedeli di Roma c'è qualcosa che li sconvolge cioè rimangono talmente sconvolti da questo da noi appunto fa sorridere ma che un giapponese lascia esterrefatto che oggi se tu sei un ipo brasiliano il governo giapponese ti paga il rimpatrio in Brasile cioè se tu te ne ritorni in Brasile c'è un aiuto c'è un incentivo del governo giapponese per tornartene in Brasile ecco questo ci dà l'idea di come la demografia giapponese vive e se non cambia vivrà una fase di grandissima difficoltà che porterà da oggi a Giappone circa 127 milioni di abitanti dovrebbe arrivare a 100 milioni di abitanti tra qualche decennio 20-25 anni perché è un'età mediana molto avanzata più razziata della nostra addirittura e ce ne vuole e quindi decaderà dal punto di vista demografico i giapponesi pensano nella loro mentalità che l'intelligenza artificiale potrà surrogare l'assenza degli esseri umani ma la capacità di stare al mondo dell'essere umano non è surrogabile non c'è niente da fare la potenza marittima da questo punto di vista ce la insegno cioè non basta costruirsi grandi mezzi e grandi navi per diventare una potenza marittima bisogna saperci stare in mare è veramente un settore della strategia complicatissimo nel quale improvvisarsi è difficilissimo non bastano i mezzi ci sono regole tattiche di capacità veramente molto specifiche che i giapponesi possiedono peraltro e che i cinesi non possiedono cioè i giapponesi te lo dicono subito a me è capitato ho curato io questo numero nei viaggi che ho fatto in Giappone di discutere ad esempio con alcuni storici della strategia giapponese le cose che ti dicono anche in maniera orgogliosa dicono ma la Cina anche se in questi anni si dovesse dotare di straordinarie portaere eccetera ancora non sa stare in mare cioè proprio non è capace quindi l'elemento umano lo colgono come grande differenza ma se tu devi notare che però senza demografia non bastano i robot per la stessa ragione allora ti seguono già meno quindi questo complesso questa presunzione questo pregiudizio i giapponesi ce l'hanno tradotto nei prossimi anni torneranno ad essere ciò che sono sempre stati una grande potenza anche dopo il stagione politico ma è evidente che la loro parabola sarà si costruirà un lasso temporale ridotto se questa rimarrà la demografia non potrà durare cento anni evidente non potrà durare cento anni non potrà durare cento anni